Oh, dai, oh! Continuiamo! Fa caldo adesso! Prima che c'è freddo, adesso no! Tiro su un po' i pantaloni! Apro e chiudo! Interno coscia! Su! Qui! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Cinque! E si ritorna su! Questa volta solo con un pesetto! E salgo su! Press up! Single arm! E... Su! Su! Qui! Un minutino! Saltelli sul trappolino e... Spalle! Spalle! Su! Su! E... E... Continuo! Anche un filetto! Dopo un po' si sente! E... Su! E... Qui! E... Continuo! E... Continuo! Su! Non mi fermo! Continuo a saltellare! Continuo a saltellare! Continuo a alzare il braccio! Su! 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 E... Forza! 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 Cambio! Perfetto! Altra! 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 Fu! Aversa! Forza! Perfetto! si continua a saltellare non ci si ferma come va? fatica? poca poca cambio e qui poi pronti a prendere tutti i due pesetti? qui continuiamo con le nostre spalle pronti pronti? anzi no ma troppo porti adesso dai due pesetti bolleggio e intanto spingo uno due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due o o e cinque qui sentite i tricipiti qui forza un minutino lasciamo giù ancora un pesetto tarantella 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 tingle leg tingle arm qui qui cos i knew from the start this might be overrated continuo continuo porto porto la gamba brucia niente la lasciamo bruciare e cambio qui continuo continuo oh dai un minutino solo un minutino sei dai Daria intanto qui ne hanno approfittato eh per rallentare prende pesenti e single indietro qui e su qui indietro su qui e continuo continuiamo a spingere su su precipiti forza forza ed ora o due torno o prima prima abbiamo fatto il giro dalla parte opposta tutto bene tutto bene benissimo Nici c'è l'unico! E' dura! sempre pugni, ma questa volta col braccio avanti, prima incrociavamo ed ora non incrociamo più, pesano le braccia? no! vedo che mi stanno scalando le braccia, forza! l'energia! Quattro! Continuo, continuo! forza ci siamo quasi forse però quasi spettiamo la corda no, non la spettiamo più ci siediamo qua mani dietro al trampolino forbicio forbicio 1 2 3 4 5 6 7 8 e ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 e ancora qui ancora 4 3 2 e 1 qui le gambette porto le ginocchia al petto e al centro petto centro petto 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 5 5 4 3 continuo e qui qui 6 6 6 6 6 7 8 9 9 11 12